Figliolo, tu non sai cosa produce l'obbedienza. Ecco, per un sì, per un solo sì, fiat secundum verbum duum, per fare la volontà di Dio Maria divenne madre dell'Altissimo, professandosi sua ancella, ma conservando la verginità che tanto a Dio e da lei era cara. Per quel sì pronunciato da Maria Santissima, il mondo ottenne la salvezza, l'umanità fu redenta. Facciamo anche noi sempre la volontà di Dio e diciamo anche al Signore sempre sì. Pace bene, fratelli e sorelle. Oggi Padre Pio ci esorta con questo bel pensiero. Figliolo, tu non sai cosa produce l'obbedienza. Ecco, per un sì, per un solo sì, fiat secundum verbum duum, per fare la volontà di Dio, Maria divenne madre dell'Altissimo, professandosi sua ancella, ma conservando la verginità che tanto a Dio e da lei era cara. Per quel sì pronunziato da Maria Santissima, il mondo ottenne la salvezza, l'umanità fu redenta. Facciamo anche noi sempre la volontà di Dio e diciamo anche al Signore sempre di sì. Ecco, vedete, fratelli e sorelle, Padre Pio che ci esorta a non tirarci mai indietro. A Maria gli è stato chiesto tanto. Voi pensate nell'annunciazione, quando porta il bambino Gesù al Tempio, quando lo perde nel Tempio, quando si trova ai piedi della croce. Che cosa ha pronunciato Maria? Sempre Amen, cioè sì. Amen, Amen, Amen. Sia fatta, Signore, la tua volontà, sempre. Padre Pio diceva che la vera devozione alla Madonna qual è? La vera devozione alla Madonna è quella dell'imitazione. Allora noi, da buoni cristiani e da buoni cattolici, dobbiamo saper imitare la Madonna sempre, soprattutto nelle sue virtù. La virtù dell'obbedienza, la virtù dell'obbedienza è molto importante. Guai se noi non siamo obbedienti, obbedienti ai comandamenti, obbedienti ai genitori, obbedienti ai superiori, obbedienti alla Chiesa. L'obbedienza fa miracoli, dicevano certi santi. E San Pio è un frate obbediente che si china continuamente, china la sua testa per fare sempre la volontà di Dio. E con chi la fa questa volontà di Dio? Questa volontà di Dio la fa con Maria, con Maria la madre di Gesù. Pensiamo anche alle nozze di Cana, no? Alle nozze di Cana, quando viene a mancare il vino, Gesù e la Madonna si trovano a questo matrimonio, doveva essere un parente della Madonna, e ad un certo punto si rivolgono alla Madonna e le dicono non c'è il vino, viene a mancare, gli sposi fanno brutta figura. E allora la Madonna si rivolge al figlio e le dice figlio, non c'è più vino. E Gesù le dirà, chi ho a che fare con te, donna? Ma questo Gesù che cosa fa? Gesù guarda la madre e obbedisce alla madre. È bellissimo questo. Il primo miracolo che compie Gesù per intercessione di Maria Santissima. Difatti la Madonna, piena di fede, cosa dirà ai servi? Fate tutto quello che vi dirà. Fa portare le brocche, fa riempire l'acqua e poi servirà vino buono, vino nuovo. Ecco, vedete? L'obbedienza che fa sempre la volontà di Dio e il Signore sempre ti viene incontro attraverso questa mamma Santissima. Ecco, Gesù ce ne ha dato un esempio, San Pio ce ne dà un esempio, i Santi ce ne danno un esempio, passiamo attraverso di lei, attraverso questo cuore immacolato che ci purifica da ogni macchia, che ci purifica da ogni peccato. Passando attraverso di lei, noi arriviamo a lui. Pace e bene a tutti. Pace e bene a tutti.